Sarò il sindaco che riaprirà l'ospedale Santa Croce e vi prometto che le decisioni torneranno ad essere prese in piazza 20 Settembre a Fano e non più in piazza del Popolo a Pesaro. È determinata Lucia Tarsi, candidata a sindaco del centrodestra che sabato scorso ha presentato la sua lista a Marina dei Cesari. Dopo il passaggio di testimone con Giancarlo Danna che ha fondato Fano Città Ideale e che ha annunciato la sua discesa in campo alle prossime amministrative, i componenti della squadra si sono presentati uno ad uno, a partire dalla sinistra del pubblico, ha precisato Tarsi, fino alla destra. Un inizio voluto come a significare una svolta decisiva visto che, secondo la candidata a sindaco, Fano ha bisogno di uscire da una situazione di stallo in cui è stata fatta sprofondare in questi ultimi cinque anni. Queste sono persone che si sono radunate, si sono raccolte perché hanno una voglia profonda di cambiamento. Siamo riusciti ad ottenere una squadra molto variegata per età ma anche per mestieri, per professionalità, per incarichi e quindi siamo riusciti a rappresentare la nostra città a 360 gradi. Noi vogliamo frenare questo precipitare della nostra città, vogliamo che la nostra città ritorni ad essere una città produttiva, una città solare, una città vitale, una città moderna. È una città che è rimasta ferma in questi cinque anni. Noi abbiamo tutti gli strumenti e tutte le persone giuste per poter ottenere questo obiettivo. Tra i 24 candidati ci sono tre suoi ex alunni, un pescatore, una casalinga, un avvocato, un farmacista, un infermiere e due medici, un radiologo libero professionista e un ortopedico. Persone, queste ultime, che conoscono da vicino il problema della sanità. Un tema, o meglio una battaglia, portata avanti fin dalla nascita della lista e che continua a rimanere in prima linea. Il programma elettorale di Fano Città Ideale di cinque anni fa è ancora valido a dettotarsi perché molte richieste avanzate dalla città nel 2014, questa amministrazione non è stata in grado di realizzarle e alcune cose sono state addirittura peggiorate. I nostri obiettivi, invece, sono sempre gli stessi. Quindi vogliamo porre fine a questo scandalo che vede privilegiare Pesaro a discapito di Fano. Questa conferenza stampa si è conclusa con una sorpresa, con un suo annuncio? Francamente mi sono trovato in una squadra nella quale ci sono delle persone squisite che oggi mi hanno fatto commuovere più di una volta, che nei giorni scorsi mi hanno chiesto di essere della partita, quindi ho detto sì, mi candudo anch'io al fianco di Lucia Tarsi.